Punto. Adesso le spiego lei. Se lei scrive che la squadra non ha rilasciato interviste dopo la gara, scrive un errore, scrive una cosa non vera, perché Franco Lerda e Marco Carraro si sono presentati come sempre ai taquini. Punto. Se lei scrive che a potenza è stato espulso Papini e non panico, scrive un'esattezza. Punto 2. Se lei scrive che c'è stato del malcontento alludendo ai tifosi, è una cosa legittima, ma anche lì sbaglia, perché se allude ai tifosi deve scrivere non casa Crotone ma tifosi eccetera eccetera. Se invece scrive Crotone deve scrivere al borgo c'è malcontento, specificare, ecco, questo è quell'inesattezza che lei ha scritto. Allora, posso parlare? Il malcontento non lo dico io, ma si respira, perché io seguo questa squadra dal 92, non da ieri, non da vent'idea, dal 92 sto perfettamente. Allora lei respira male? So perfettamente cosa succede anche quando non parlate, per esempio, prima abbiamo detto che è una vita che non vediamo un allenamento, per esempio, una volta facevate durante la settimana un'intervista. Chiedo scusa, io queste cose sono scelte, cioè questo non posso rispondere io. Stiamo facendo un contradditto, per l'amore del cielo, stiamo facendo un contradditto. Io non posso. Sì, 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 allora, per quanto riguarda le interviste... No, no, un attimo, finisco, Lucia. Per quanto riguarda le esattezze... Stai parlando, mi fai rispondere, un attimino. Per quanto riguarda le interviste, sapete benissimo che durante la settimana di solito parla qualcuno. No, come no, parlano sempre i giocatori. Questa settimana, siccome c'è il calciomercato, durante la settimana... Non dobbiamo parlare di calciomercato. Quando c'è stato sempre il calciomercato in corso, non ha rilasciato... Dobbiamo parlare di calciomercato, non di calciomercato. Ma tu hai scritto dopo la gara, dopo la gara, vuol dire che dopo la gara col Monterosi non è intervenuto nessuno. Non lo volevo sentire, in settimana se parlare va qualcuno. Ti sto rispondendo. Posso finire il mio... Dopo la gara col Monterosi, invece non è esatto, Giro. Posso finire il mio inciso, per gentilezza. E tu questo hai detto. Allora, a me fa piacere quando si sottolineano gli errori, perché nessuno è infallibile. Io ho scritto inavvertitamente per una questione pure di assonanza. Papini, panico, è una questione di assonanza. Per l'amore del cielo, mi piace.